Noi siamo arrivati qui con un progetto tecnico ben chiaro, questo progetto tecnico è a medio e a lungo termine e questo passa attraverso la salvezza, facciamo delle buone partite regalando un'età media molto alta agli avversari e questo delle volte in termini di esperienza lo possiamo pagare in alcune circostanze, regalavamo 50-60 anni alla Feralpi, 50 anni al gubbio e non è una cosa da poco conto, sono molto fiducioso sia io, sia lo staff tecnico, sia la società che questa squadra è un'ottima squadra, forse con più attenzione potremmo avere più punti magari con scelte tecniche migliori, non lo so, però questa è la situazione, andiamo avanti dritti per il nostro obiettivo e credo che tutti insieme riusciamo a raggiungerlo, cominciamo a giocare qualcosa di importante, come era quella di sabato scorso e credo che sia giusto dare la giusta importanza alla gara, ma noi non abbiamo mai stato valutato nessuna gara, quindi per noi tutte le gare sono importanti, no vabbè, l'avversario intanto come sempre credo che molto dipenda da noi, anche sabato è diviso molto da noi e dipenderà sempre da noi, io credo che ognuno di noi sia nella vita che sia nello sport è padrone del proprio destino e quindi dobbiamo puntare su noi stessi per fare bene.